Radio Spada E da quello far scaturire una casa editrice fosse la prima finalità che ci trovavamo tutti. I progetti quindi sono fare libri, organizzare eventi culturali, potenziare il nostro sito, farci conoscere e andare via via potenziandoci. Siamo aperti ai contributi e alla collaborazione di chiunque e della nostra editoriale. Chi vuole scrivere, chi ha voglia di scrivere, si mette in gioco, ci manda i suoi testi, purché siano testi nuovi, originali e soprattutto che siano testi che possano portare un contributo efficace all'attuale battaglia delle idee. Questo è il nostro scopo. Allora ti ringraziamo. Sono io che ringrazio voi. Ci diamo appuntamento allora sul sito di Radio Spada. Continuate a seguirci e sappiate che stiamo arrivando. D'accordo, allora buona giornata. A voi.